buongiorno a tutti allora magliettina del gigione che la facciamo vedere subito immediatamente perché ormai siamo agli sgoccioli anche di questa settimana siamo già sabato purtroppo vola puru pupu vola puru pupu vola e se vogliamo siamo quasi anche alla fine di agosto verrà lo so verrà la fine di agosto non ero ancora nato quando c'era sta canzone del grande little little toni che ci ha lasciato parecchi anni fa partiamo 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 con l'ultima l'ultimo video di schedine del gigione con il campionato francese ne ho fatti tutti mancava il francese quindi campionato francese ragazzi si parte con marsiglia brest 1 non me ne vogliano i tifosi del brest ma penso che l'olimpic marsiglia seppure senza il buon sanchez dovrebbe mangiarsi il brest sfida di cartello ragazzi le due eterne sfidanti in francia con paris saint germain favorito e lens lì sempre scusate il bronco di riace pronto a saltargli addosso a stargli addosso tra l'altro paris saint germain è una riduce da due pareggi pareggio con l'orient e pareggio la settimana scorsa adesso non mi ricordo con chi ma parla due pareggi quindi paris saint germain lens rega soli non c'è il 2 senza il 3 io dico un bel x dato a 4 25 sarà dura però al 4 25 macchiappa si dice non c'è il 2 senza il 3 tentiamo un x fisso e vediamo cosa succede è un rischio perché probabilmente il paris saint germain vincerà questa partita con il lens perché non può pareggiare tre gare di fila però non si sa mai scusate stavo curiosando una cosa così tanto per si giocherà stasera alle 21 beati quelli che se la godranno io sarò lì a spignattare come sempre beh 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 c'è un metà squadra è indisponibile baris saint germain quindi vedremo 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 perché non ha più nema non ha più messi c'è solo imbappé attenzione che quest'anno il paris saint germain rischia pure di quindi x la proviamo così questo x folle proseguiamo proseguiamo con le gare di tomorrow perché anticipo ieri sapete che il campionato francese adesso è a 18 squadre non più a 20 quindi abbiamo una partita al venerdì due al sabato e le altre tre la domena domena domenica che cosa fai e abbiamo un bel ren le avro e qua l'uno ed obbligo il le avro ne ho promosso eccetera le renne credo che se lo pappano altra squadra che a me da simpatica diciamo che il ren sta abbastanza simpatico perché mi regalava gioia anni fa nelle coppe che segnava e prendeva gol quindi mettevo gol per partire mai mettevo gol erano soldi sicuri un po come ribo ai tempi quando c'erano i film con mario carotenuto che faceva il preside e diceva ribo mio quando c'eri tu spizzicavo sempre perché giocava ai cavalli giocare bo piazzato vincente eccetera e andavi sul sicuro anche se pagava poco spizzicati come si suol dire clermont metz qua invece vado di 1 x perché il mezzo attenzione potrebbe fare lo scherzettino al clermont e bloccarlo sul pareggio poi magari sbaglio e stra vincere clermont 6 a 0 e vabbè montpellier rheims partita abbastanza equilibrata da aiuto aiuto arriva il lupo eccetera eccetera qua ragasoli mia rischio lissa 3 40 pazia pazia perché volendo anzi facciamo 1 x va però volendo se qualcuno vuol fare il coraggioso un x a 3 40 farebbe libidine però stiamo sull'1 x che l'emei strasburgo tolosa 1 x tolosa reduce dalla vittoria sul nato 2 a 1 se non ricordo male in rimonta l'orient l'il tra l'altro tolosa vincitore della coppa di francia l'anno scorso in finale sul nana 5 a 1 la vittoria una paura l'orient lille x2 perché non è facile battere l'orient che alla prima giornata addirittura bloccato sullo 0 a 0 in casa al paris saint germain è vero che era un paris saint germain incompleto però ragazzi miei andare a pareggiare al parco dei principi alla prima giornata contro il paris saint germain è tanta roba quindi l'orient lille x2 infine inizia lione 1x lione che l'anno scorso ha fatto un campionato anonimo anonimo quest'anno si vuole riscattare tra virgolette ma per ora è ancora lì 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 50 50 e a nizza non è facile non è una partita per nulla facile quindi 1 x andiamo alla schedina alternativa marsiglia bresta andiamo di over 2 e mezzo data 1 e 65 che ci sta alla grande paris saint germain è un bel gol a 1 e 65 che andiamo sul libidine rennes le avrà over 2 e mezzo data 1 e 75 clermont mets clermont mets gol data 1 e 66 che mi piace anche quello 1 e 66 messo di così montpellier reims gol piover qua voglio voglio fare la doppia il combo pazzia pazzia relativa perché comunque ci può stare abbiamo detto montpellier reims gol piover data 1 e 83 che ci sta tutto trasburgo tolosa anche qui gol piover data 1 e 92 che mi fa libidine l'orient lille ecco qua no qua sto sto più schiscio perché l'orient lille mi ha rischio un over 2 e mezzo data 1 e 75 e infine inizialione gol piover anche qui vado di combo perché 2 a 1 può essere un risultato che può uscire 2 a 2 anche gol più over data 1 e 77 gol più over 2 e mezza naturalmente non esageriamo, non abbondiamo anche se il campionato francese sta veramente regalando gol su gol, occasioni su occasioni divertimento, ieri addirittura nell'anticipo Nantes non mi ricordo più scusate, perché non mi ricordo più l'altra squadra, mi sembra fosse e adesso lo vedo perché non mi sovviene un bellissimo 3 a 3 Monaco, Monaco 3 a 3, spettacolo queste sono le partite che piacciono ai tifosi perché il tifoso vuol vedere i gol ragazzi miei, io mi ricordavo da bambino e negli anni 70 si segnava poco guardavo le partite e se non segnavano mi annoiavo in una maniera pazzesca se c'erano delle occasioni sì mi piaceva ma io vivevo già da piccolo per il gol, poi ho deciso di fare il portiere quindi divento l'anti-gol per ma lì fu una scelta scusate il bronco di Riace perché mi ero reso conto che se tu decidi di fare il portiere giochi sempre a differenza della Serie A in cui il ruolo del portiere è brutto perché se sei il secondo portiere giochi mai o al massimo ti fanno giocare l'ottavo di finale di Coppa Italia per grazia ricevuta sono giochi mai viceversa quando sei un ragazzino e magari sei in 11 sei in 12 il campo è da 5 i due devono stare fuori, devono fare i cambi tu dici io gioco in porta ti prendono subito perché nessuno vuole stare in porta e giochi sempre certo uno può dirmi Gigi però che palla è stare in palla io mi diverto poi è logico mi piace molto di più giocare dalla destra come ho giocato con Ilario Soccorso qualche anno fa 10 minuti, un quarto d'ora anche perché l'autonomia è quella non posso pretendere di giocare 90 minuti ma poi era una partita di 30 minuti totali secca perché erano 5 squadre c'erano e Ilario Soccorso era l'outsider che avrebbe giocato poi l'altra finale con la vincitrice del quartetto e facemmo 0-0 tra l'altro ci annullarono un gol su mio assist per presunto fuorigioco del giocatore a cui avevo dato la palla perché era partito in posizione irregolare al momento dell'azione proprio perché cervellotico io non potevo essere in fuorigioco però avevo un giocatore davanti centralmente poi partivo quasi dalla metà campo appena oltre la metà campo l'altro era più spostato mi lasciavo la fascia e andai in fascia cross perfetto provò a prenderla di testa non ci riuscì palla precisa per il compagno tira al volo palla in rete gol annullato ho mandato a fare in culo l'arbitro che ha fatto finta di non sentirmi perché non era un amitevole neanche l'ho mandato a fare in culo ma gli ho detto scusi come cazzo fa a essere in fuorigioco che ho grossato dal fondo mi fa segno con questo gesto qua come a dire vabbè lasciamo perdere ragasoli mi sono dilungato troppo chiedo venia vi ho dato anche le dritte sul campionato francese vedremo se tutte le gare terminano 3 a 3 o punteggi simili che facciamo il record media 6 gol a partita 6 per 9 54 gol in una giornata credo che sia successo rarissimamente per non dire mai o forse negli anni negli anni 30 quando le certe partite finivano 6 a 3 4 a 6 3 a 2 5 a 3 eccetera eccetera perché se no veramente adesso come adesso più di 50 gol in 9 partite credo che sia improbabile ci vediamo alla prossima ciao